a voi. Grazie molto Alberto e grazie a Don Mauro per l'invito che mi ha rivolto già qualche tempo fa e che ho colto con piacere. Complimenti per questa iniziativa che giudico particolarmente afferente dati i tempi e il contesto. Prendo le mosse da questa considerazione. L'epoca nella quale siamo inseriti è denominata ormai come caratterizzata come seconda grande trasformazione. Perché seconda? Perché la prima grande trasformazione è quella a cui fece riferimento il ben noto Karl Polanyi nel suo libro fondamentale del 1944 intitolato appunto La grande trasformazione. In quel libro Polanyi descrisse da par suo le modificazioni strutturali delle società occidentali al seguito della prima e della seconda rivoluzione industriale. Oggi noi viviamo una seconda grande trasformazione di tipo polaniano che si può far datare dagli anni settanta del secolo scorso in connessione a due fenomeni di portata epocale. Da un lato la globalizzazione e dall'altro la rivoluzione delle tecnologie del digitale. Come sappiamo la globalizzazione ha una data di inizio novembre 1975 quando nel castello di Rambouillet vicino a Parigi si tenne il primo G6 e l'Italia faceva parte dei sei paesi più avanzati all'epoca e in quell'incontro venne presa la decisione di rendere oggetto di relazioni internazionali tutto sia gli output cioè le merci e servizi cosa che esisteva da tempo sia gli input sia i diritti umani fondamentali cioè l'idea era che liberalizzando e il modello neoliberista era da pochi anni stato preparato a livello teorico dalla scuola di Chicago di Milton Friedman liberalizzando tutto ci sarebbe ottenuti risultati più che soddisfacenti su tutti i piani. Quindi la cosa importante è non è vero quello che dicono molti economisti che la globalizzazione c'era anche prima. Questo è un falso storico perché la parola globalization viene cognata per la prima volta nel 1983. Prima del 1983 non esisteva e viene cognata dall'economista giornalista americano Theodore Levy e la differenza è tutta lì. Prima esisteva la mondializzazione, l'internazionalizzazione il cui oggetto erano gli output, le cose prodotte. Con la globalizzazione oggetto, lo ripeto, è tutto. Anche i diritti umani fondamentali, ad esempio il mercato degli organi umani. Voi sapete che oggi il mercato degli organi umani movimenta globalmente un volume d'affari che supera quello della droga. Noi ci meravigliamo tanto e facciamo bene della droga ma non consideriamo che ci sono in giro per il mondo e sappiamo dove sono, cliniche ovviamente quasi segrete dove avvengono i trapianti, si espiantano gli organi dai bambini e quando si legge ogni anno scompaiono bambini, per forza, perché vengono venduti dai loro genitori o da chi per loro e quindi in base al canone utilitaristico se l'utilità che i genitori traggono dalla vendita di un figlio a cui vengono espiantati gli organi per trapiantarli chi ne ha bisogno è superiore, l'utilità, alla disutilità della perdita di un figlio questo è considerato lecito ed è questa la ragione per cui pur sapendo dove sono queste cliniche in Italia non ci sono, questa è una bella notizia, almeno una volta tanto, ma sappiamo che anche europei ci sono queste cliniche che fanno quel mestiere, però non si può dire niente perché se il canone etico è quello dell'utilitarismo bentamiano o migliano l'argomentazione è così come la prostituzione, è condannata lo sfruttamento della prostituzione, ma se una persona si prostituisce facendo un calcolo del tipo di quello che ho ricordato non può essere denunciata eccetera. L'altro fenomeno è la terza e quarta rivoluzione industriale associata a nomi ormai entrati nell'uso comune come internet e come ora intelligenza artificiale, fra un po' metaverso e via discorrendo, la cosiddetta deep technology. Ebbene questi due fenomeni assieme, unitamente ad altri, hanno provocato una trasformazione radicale e la prima conseguenza è che le categorie di pensiero oggi che abbiamo mutuate dal passato non sono più in grado di farci capire. Poi è ovvio che ci sono studiosi, come dire, non solo seri, ma illuminati e si sforzano di cambiare le categorie di pensiero, perché se noi continuiamo a leggere la realtà di oggi con quello che abbiamo imparato prima, prima degli anni settanta, non riusciamo a capire come in effetti stiamo vedendo quello e quindi non riusciamo a fornire un orientamento, perché dare un orientamento vuol dire dare la direzione di marcia della storia. Detto questo, quindi, per chiudere su questo primo punto, quello di cui oggi abbiamo massimamente bisogno è di un pensiero pensante e non tanto di un pensiero calcolante, perché di pensiero calcolante ne abbiamo, oso dire, fin troppo, fin troppo. Eppure centri di ricerca, università di tutti i tipi non fanno altro che investire sul pensiero calcolante, perché ovviamente è più redditizio, parliamoci chiaro, ma è del pensiero pensante. E cos'è il pensiero pensante? Quello che dà e che fornisce l'orientamento. Detto questo, fisso l'attenzione nei minuti che ho a disposizione sulla una particolare soggetto che è quello dell'impresa, perché mi sembra di capire che l'uditorio o le persone che partecipano a questi incontri siano misura notevole, rappresentati da soggetti di impresa. Allora, la mia tesi è che l'impresa oggi è il principale agente di trasformazione, per ragioni che è facile immaginare. Ovviamente la trasformazione può essere nel bene o nel male, è lì il punto. E nel senso cioè che se vogliamo coltivare una certa visione del mondo, occorre in primis rivolgersi al mondo dell'impresa che per le ragioni che ormai conosciamo sono i principali agenti di trasformazione. E a questo riguardo allora qual è il problema che si pone? Il nostro Adalberto ci in una delle tre domande che ci ha posto ci chiedeva del nesso tra il riferimento e il riferimento. Vedete che non tolgono l'audio e disobbediscono all'ordine di Don Mauro. Ecco, e dicevo riferimento alla metafisica. Il punto per quanto riguarda la disciplina che professo, cioè l'economia, ha anche lì una data ben precisa che è il 1829. L'università di Oxford assume la cattedra e allora Oxford era un centro di elaborazione di cultura economica tra i più avanzanti e assume la cattedra un vescovo della chiesa anglicana e essere vescovi della chiesa anglicana evidentemente non è una cosa di poco conto. E nel corso della lezione inaugurale viene affermato quel principio che di via poco sarebbe stato denominato NOMA, acronimo inglese che sta per Non Overlapping Magisteria. e qual è il senso? Cioè i magisteri che non si sovrappongono e qual è il senso? Il senso è molto semplice, che l'economia non ha nulla a che vedere con l'etica e che l'economia se vuole diventare scienza secondo il paradigma positivistico a loro impenante, nei circoli alti della cultura europea e in parte anche americana ma l'America stava nascendo allora, occorreva operare questa copur, dicono i francesi, questa separazione netta proprio perché l'economia è un sapere che ha le sue leggi riguardanti il funzionamento dei mercati e di tante altre cose e che non deve essere inficiata da considerazioni etiche. Il rapporto tra economia ed etica deve avvenire ex post, cosa vuol dire ex post? post factum, cioè dopo che i soggetti dell'economia, imprese, consumatori, gruppi vari, seguendo la logica economica intesa in senso stretto, quella che poi diventerà nota come la logica dell'homo economicus, dopo che hanno ottenuto certi risultati dovranno confrontarsi con certi principi etici e allora potranno decidere se modificare o no il loro comportamento ma durante l'operatività il day by day l'etica non deve ficare in assi. Ora questo principio eh del noma viene dapprima criticato da George Stuart Mill a metà dell'ottocento perché oltre che essere grande economista era anche eh grande filosofo mettendo in evidenza i rischi ma quando si arriva alla seconda metà dell'ottocento e con l'avvento della cosiddetta rivoluzione marginalista e l'avvento cioè del paradigma neoclassico quello che è ancora oggi dominante seppure in misura minore rispetto a qualche anno fa quella posizione del noma diventa diventa dominante e unica e questo spiega basta prendere un libro di di testo di economia che viene dato ancora con grandi irresponsabilità da studiare ai nostri studenti si dice il consumatore chi è? Un soggetto razionale qual è il suo scopo? Massimizzare l'utilità l'impresa è un soggetto razionale il cui scopo è massimizzare il profitto ad ogni costo c'è scritto ovviamente nel rispetto delle leggi ma sappiamo da chi sono fatte le leggi e quindi si ottiene un circolo vizioso eccetera ora in questo contesto a partire dal dopoguerra del secolo scorso il 1954 un economista americano non particolarmente noto Bowen annuncia la cosiddetta responsabilità sociale dell'impresa che è la più grossa mistificazione che si potesse inventare e con grande fatica oggi ce ne stiamo liberando perché perché la cosa vuol dire responsabilità sociale delle imprese vuol dire che si mantiene in essere la dicotomia economia etica poi a conti fatti per essere espliciti al fine dell'anno quando si tirano i conti si dice una parte dei profitti ottenuti bisogna darli sotto forma di filantropia o d'altro per questo quell'altro obiettivo e ovviamente si raccomanda alle imprese di rispettare le regole del gioco ma queste le aveva già dette Milton Friedman già molto tempo prima e cioè dire le leggi in materia fisica salvo poi non tener conto del fatto che chi fa le leggi formalmente sono i parlamenti ma i parlamenti fanno le leggi sulla base degli input e le pressioni che ricevono dal mondo delle imprese come ormai sanno tutti tanto è vero che papa francesco nella fratelli tutti no nella nella fratelli tutti al capitolo quinto intitolato per la migliore politica lo dice fino che l'economia scusate fino che la politica non si libererà cito abbraccio dal gioco del potentati economici finanziari non ci sarà mai libertà questo è un papa il nostro un po come sappiamo strano che parla fuori dai denti non si vergogna di dire anche in presenza degli interessati ed è così e quindi la responsabilità sociale delle imprese oggi è in declino perché non ha più senso perché il problema è vogliamo mantenere il principio del noma o vogliamo riconoscere come da aristotele in avanti è stato fino pensiamo a san tommaso e pensare che l'agire economico essendo un agire umano è esso stesso intrinsecamente dotato di senso di senso etico cioè in altre parole il rispetto di certi principi etici fondamentali non li sto ripetere ma perché li sappiamo pensiamo alla dignità della persona umana tu li devi applicare mentre fai la tua attività non dopo non è che tu prima offendi la dignità delle persone dei tuoi lavoratori e offenderli non vuol dire maltrattarli fisicamente sappiamo qual è il concetto di cos'è il concetto di lavoro decente diversamente dal lavoro giusto e poi dopo per lavarti la coscienza dai loro qualche cosa qualche benefit questa è una vergogna assoluta allora uno può anche dire che gli piace questo però non si può come dire continuare nell'ipocrisia di pensare che seguendo questa via e aiutando la come dire la filantropia d'impresa si possa uscire da situazioni ci sono no ma non sto a dirvi alcuni episodi recentissimi di queste ore starei per dire che confermano come arrabbiato è e non solo lui papa francesco proprio su questa linea quello che occorre è di pensare alla responsabilità civile dell'impresa non sociale ma civile e la responsabilità civile vuol dire recuperare la nozione forte di responsabilità noi sappiamo che responsabilità ha due accezioni la responsabilità come dare conto dal latino responde che vuol dire io do conto delle mie azioni e la responsabilità che viene dal latino respondus cioè il peso delle cose e cioè la responsabilità come prendersi cura ecco la responsabilità sociale si riferisce alla prima accezione di responsabilità uno può dire meglio che io che è meglio che niente che magari anche io dico ci fosse più filantropia però non è lì la soluzione non possiamo trovare lì l'orientamento perché perché appunto non basta dare conto e invece la responsabilità civile è la responsabilità dell'impresa che si prende cura di quello che avviene nel territorio o nella comunità di cui l'impresa è parte e quindi contribuisce come ho detto all'inizio a favorire il processo di trasformazione strutturale dalle strutture sanitarie a quelle scolastiche e questo i beni comuni eccetera sono tante la lista per cui non è più lecito dire l'impresa io penso a fare bene le cose in casa mia a rispettare le leggi perché questo è la vecchia concezione per chiudere perché vedo che il tempo sta passando mi rimangono pochi minuti cos'è che allora è necessario indicare agli uomini d'impresa che vogliono collocarsi in questa prospettiva e posso dirvi per averne conoscenza diretta che un numero crescente si sta di imprenditori sta andando in questa direzione ma non da molto perché fino a 10 15 10 francesco metti francesco rabotti vedi vedi don mauro come sono disobbedienti i tuoi ascoltatori grazie l'ho disattivato di forza grazie visto don mauro si modera da solo zamagna visto non devo neanche eh fa tutto da solo perché sento sento il il rumore di fondo e che dà un po di fastidio ovviamente dicevo eh perché questo oggi quali sono i punti su cui insistere per rivolgendosi al mondo dell'impresa insensurato perché la parola impresa è una parola antica cioè la parola appartiene alla modernità ma il concetto di impresa come noi sappiamo nasce nel 1400 in terra di Toscana all'epoca dell'umanesimo la la parola impresa viene coniata nel 1730 prima non c'era prima si parlava di mercanti di agricoltori di artigiani ma non di imprenditori chiusa la parola tre primo teleopatia secondo bisogna chiarire e spiegare cos'è il cap flower syndrome cioè la sindrome del taglio dei fiori e il terzo il disimpegno morale morale disimpegno brevemente chiarimento cos'è la teleopatia è quella sindrome telos vuol dire il fine che colpiva tutti i quali hanno un solo fine da perseguire che nel caso di specie è la massimizzazione del profitto è offensivo pensare che un imprenditore debba vivere la sua vita per massimizzare solamente il profitto e allora bisogna spiegare a tutti che la teleopatia è una brutta malattia che era stata veicolata come qualcosa di rilevante ma che oggi mostra il suo segno secondo cos'è la sindrome del del taglio dei fiori e cioè che si parla di valori ma dei valori che sono recisi dalla loro redice o spirituale o metafisica ecco perché si e quindi come i fiori una volta tagliati dopo un po' appassiscono e così è dei valori per cui il linguaggio usate quello dei valori noi ascoltiamo bellissime presentazioni uno quasi si commuove ma quei valori non hanno un fondamento e quindi non avendo fondamento dopo un po' appassiscono terzo la cosiddetto disimpegno morale il lavoro fondamentale a questo riguardo è quello di albert bandura grande studioso ora oltre novantenne americano che alcuni anni fa ha pubblicato proprio questo volume intitolato demora diseghem che cos'è è una strategia cognitiva in base alla quale un soggetto che dichiara di accettare certi principi si trova il modo per giustificare in maniera ormai veramente artificiosa la sua violazione degli stessi oggi questo è il comportamento più diffusi in assoluto faccio l'esempio banale io so che inquinare l'ambiente è un male e non si deve fare però dico a me stesso è vero che io ho inquinato però il mio inquinamento è talmente modesto rispetto all'inquinamento generale che mi sento giustificato ora voi capite e questo è un esempio ad avere tempo potrei illustrare tante altre voi capite che queste tre fenomeno la teleopatia la sindrome del taglio dei fiori e il disimpegno morale impediscono a imprenditori di trovare quello orientamento capace di transitarli in una situazione nuova perché ovviamente liberamente lo accoglie insistere invece sulle vecchie raccomandazioni come sino qualche tempo fa si faceva non serve a motivo di ritenere che per una pluralità di ragioni non siamo lontani da perché perché la situazione è sotto gli occhi di tutti e tutti si stanno rendendo conto che non si può andare avanti così però io ho massima fiducia nell'impresa perché l'impresa lo dico e chiudo è il principale agente della trasformazione attuale ho tenuto i 20 minuti e vi chiedo scusa se ho sgarrato di un minuto grazie per l'attenzione grazie 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 professore vedi don Mauro vedi la differenza tra bisogna lasciarlo stare e pezzi da 90 vedi ecco allora detto questo no scusi professore ma mi rifacevo all'essico di mio maestro Morandi naturalmente mi perdoni la confidenza io se mi permetti don Mauro per dare modo al professor Magatti di cominciare alle 6 sento nelle orecchie sai ai raduni di Harley Davidson tutta la l'audience che sta sgasando ecco io so già ho due cose che devo dire posso chiedere due micro capsule due micro domande la prima è questa lei è in questo momento di fronte a una a una audience di di studiosi di di trenitori che hanno ben presente questo diciamo questa problematica della grande trasformazione del grande spartiacque e e secondo diciamo così una certa lettura di Tommaso De Maria la la grande trasformazione è la rivoluzione industriale noti i due articoli eh 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 determinativi singolari eh della loro anche se vogliamo problematicità eh quindi secondo una certa lettura si potrebbe dire sì la prima la seconda la terza la quarta la cinquanta quattresima sono tutte eh varianti fenomeniche della grande trasformazione questa sarebbe una sorta di argomento che le potrebbe venire eh come dire eh porto da parte di qualcuno mentre lei appunto è partito con impostazione no eh della la prima grande trasformazione e la seconda grande trasformazione sapendo molto bene che qualcuno nella tra la platea che poi avrà modo di parlare per conto suo durante il dibattito può chiarificare eh in pochissime parole se 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 riesce insomma la differenza tra la prima trasformazione e la seconda alla luce delle sue ricerche del suo pensiero e come dire anche delle 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 sue riflessioni per cortesia? Beh in parte ho risposto in apertura quando dicevo che la globalizzazione è un fatto della contemporaneità. Certo. All'epoca della prima grande non c'era globalizzazione. Vigeva ancora il principio ricardiano del vantaggio comparato e quindi diceva Riccardi il grande David Riccardo a Londra. I capitali inglesi devono restare qui a Londra. I lavoratori inglesi devono restare qui. Noi dobbiamo rendere oggetto di scambio le cose prodotte e la sua teoria del vantaggio comparato è riferito proprio a gente. Nel momento stesso invece tu in cui dici che oggetto di transazioni è tutto tu vieni ad avere come conseguenza che io non ho potuto citare per ragioni di tempo la perdita di rilevanza della della politica perché se a tutto pensino i mercati cosa deve fare la politica? E questo spiega perché oggi la politica attrae persone che vediamo non solo in Italia altrove ma per forza perché se fa tutti i mercati come il credo neoliberista insegnato per tanti anni e generazioni di professori di economia hanno continuato io spero in buona fede perché altrimenti veramente perché il male che hanno fatto è indubitabile perché alle università bisogna trasmettere un pensiero critico non puoi dire questo è il dogma di fede quando poi quel paradigma è fallace pieno di errori teorici oltretutto. L'altro è la la rivoluzione delle tecnologie digitali e che cosa hanno determinato? Ha determinato la obsolescenza di quel modello di organizzazione del lavoro che è noto come taylorismo. Il taylorismo nasce nel 1911 al culmine della seconda rivoluzione industriale e noi sappiamo il successo che ha avuto anche se già allora persone come Gramsci in Italia o come Elton Maio negli Stati Uniti grande imprenditore avevano capito i pericoli del taylorismo. Oggi con le nuove tecnologie il taylorismo non funziona e gli imprenditori testoni perché poi vengono a lamentarsi continuano ad applicare il modello taylorista e poi dicono le cose vanno male perché la profittabilità diminuisce e allora si dà la colpa alla crisi si dà la colpa a quell'altro la colpa è la loro perché quegli imprenditori che vivono oggi che hanno avuto il coraggio di cambiare il modello taylorista passando al modello olocratico e penso che qui si sappia che cosa è hanno visto migliorare la loro posizione quindi ecco la grande differenza chiudo su questo a pagina cinquantasette del libro fondamentale di taylor c'è scritto come vanno trattati i lavoratori alla catena di montaggio testuali parole come se fossero dei bovini perché il taylorismo sostiene che il lavoratore non deve pensare deve solo eseguire e voi pensate che oggi in tante imprese si adotta con parole un po' più addolcite questo modo di organizzazione del lavoro si possano affrontare le nuove sfide ma dico l'innovazione la creatività viene da persone libere se io ti tratto da bovino come posso pensare che tu possa dare il meglio di te in termini di generatività eccetera eccetera